Ciao a tutti ragazzi, io sono Andri Gamer e oggi siamo qui in un nuovo video. Oggi siamo qui, come avete visto il titolo, in un video un po' insolito. Siamo qui per fare un gioco sul cellulare, più che farlo, diciamo che sono qui per sponsorizzarlo, perché il gioco si chiama Quested Picture, lo vedete in alto a destra, l'icona, che adesso andremo ad avviare, e l'ha fatto un mio iscritto, e sono anche io il suo iscritto, l'ha fatto un mio iscritto Masterplace Ita. Vi lascio il link del suo video in descrizione, dove poi troverete il download. Però vi lascio il suo video. Allora, lui praticamente ha creato questo gioco qui e ha chiesto se io lo sponsorizzavo. Allora, visto che comunque ci seguiamo avvicendo, l'ho fatto a questo piacere. Allora, andiamo subito ad avviarli e così vedrete che cosa era. Vabbè, comunque questa applicazione non funziona, però non resta attiva, e quindi dovrete avviarla con internet e poi volendo disattivarla, perché ci sono le pubblicità, giustamente. Però visto che sono parecchie invasive, perché le pubblicità che mette questa applicazione sono invasive, non è che sono pubblicità piccole come queste, ci stanno pure quelle che ti cobrano tutto lo schermo. E si dovrà indovinare il logo. In questo caso, vabbè, lo sanno tutti cos'è Windows. Win, quella di O, V, ecco qui la S. Continua. Questo, vabbè, Pepsi. Facilissimo. Questo è Lamborghini. E vabbè, raga, sono un bro. Comunque, aspettate, mi sono scordato. Oh, sì, no. Vabbè, ma questo non è un logo. Master, che cosa hai combinato? Questo ti sembra un logo? Facci un voto, mi piace. No. Che? Allora, questo è il McDonald's. Mc Do... No. Vabbè, questo è Obama. E, vabbè, Barack Obama. Sì, Barack Obama. E, vabbè, io ho Obama solo, però, vabbè. Questo è Bill Gates. Bill... Bates. E, vabbè, ma poi non solo personaggi, non... Non è che mi pare uno luoghi. Due luoghi, poi solo personaggi. Sì, fa... Un passo. Ecco qui, Xbox. Dov'è la B? Xbox. Facilissimo. E, vabbè, è Crash Royale. Però è tutto sgranata. Master, nel periodo che ha fatto l'applicazione, non aveva internet, quindi, giustamente, doveva prendere le immagini più schifose. Che è schifose. E, che ha fatto? Mark Zuckerberg. Dove l'ha? No, non è. Solo il mio cognome, le due. Dove? Questo, penso, sia Logitech. Sì, è Logitech. E, forza. Ma, forza, raga. Possiamo usare un aiuto. Svere una lettera, rimuovi lettere e rispondere alle domande. Possiamo pure fare, chiedi agli amici e praticamente possiamo fare così, bloccato sul livello, chiedi aiuto ai tuoi amici. su Whatsapp, Telegram, però, se volete condividerlo su Facebook, per esempio, vi basta che fate su Whatsapp, per esempio, vi farà copiare un link e voi. Comunque, raga, ci sono tutti questi livelli. Vabbè, ma non c'è la connessione. Comunque, raga, è buono, perché... Allora, raga, siamo di nuovo qui, perché praticamente ho chiesto su Whatsapp. Whatsapp a dei nemici e mi hanno risposto, che dovrebbe essere di Adora. Sì. Perché? 5 monete, se voglio il... Guardo il doppio, devo guardare il video, che zingarate. Bene. Vabbè, questo è Fantozzi. Fantozzi. Sì, è Fantozzi. Però, la N... Ah, eccolo. Sì. Eccolo qui. Adorozzi. Comunque, raga, se si vuole, se si vuole, si possono, praticamente, ottenere delle monete, guardando dei video. Che sarebbero delle pubblicità becere. Ah, aspetta, forse... Adidas. Mi pareva fosse l'Adido. Per questo... È messi per... È messi per forza, per forza. Vabbè. Vabbè, comunque, ragazzi. Io direi che comunque questo video può finire qui. Perché non era proprio un gameplay, ma era una presentazione. Perché me l'aveva... Me l'aveva il chiesto. Il Masterplace. E non potevo negarglielo. E quindi, raga, niente. Vi ricordo di condividere questo video con un sacco di persone. Pure perché fate uscire l'app sul... Sul... Come si chiama? Fate uscire l'applicazione sullo store. Perché comunque, per queste pubblicità, Masterplace ci guadagna. Sì, questo forse me lo dovevo dire. Comunque, grazie a questa pubblicità, Masterplace può accumulare crediti che gli servono per pubblicare l'app sul Play Store. Quindi, se vi piace questa applicazione, condividetela con tutti i vostri amici. In modo che Masterplace Sita possa mettere l'app sullo store. Per farla scaricare da tutti, in pratica. E poi, mi raccomando, raga, iscrivetevi al canale se non siete già. Attivate le notifiche domani. Domani uscirà o un video fatto con Pippo Gamer o un video molto importante. Non lo so, magari lo farò uscire come video secondario. Non lo so ancora. Però, resta il fatto che noi ci vediamo alla prossima. Vi saluto e ciao! Ciao!